Buongiorno a tutti, voglio raccontarvi una storia contenuta nel Talmud che si riferisce a Hanukkah, la festa ebraica concomitante con quelle civili e religiose del fine anno, per le quali porgo a tutti i miei migliori auguri. La storia narra di un camelliere ebreo che attraversava un vicolo stretto con il suo carico di paglia, proprio nell'ora in cui un altro ebreo, come prescritto dalle nostre norme, accendeva il candelabro alla finestra della sua casa. Purtroppo la paglia prese fuoco e causò un incendio e ingenti danni materiali. Il padrone di casa si rivolse al tribunale rabbinico, chiedendo i danni al camelliere e affermando che quest'ultimo doveva sapere che la regola era chiara. A quell'ora la religione ebraica prescrive di accendere le candele e proprio alla finestra di casa. Quindi egli non aveva scuse e avrebbe dovuto fare attenzione con la sua paglia, senza nascondersi dietro alla scusa dell'ignoranza. Il camelliere si difese semplicemente affermando che il fuoco era stato appiccato, anche se in modo indiretto, dal padrone di casa e non da lui. Contrariamente a quanto ci si può aspettare, il tribunale rabbinico diede ragione al camelliere, affermando che il padrone di casa, nonostante stesse applicando correttamente delle regole religiose della festa, doveva comunque farsi carico delle conseguenze delle proprie azioni. La morale è chiara, nessuno può giustificare il male delle proprie azioni facendosi scudo della religione. Non esistono norme religiose che possano indurci a fare del male al nostro prossimo. Solo sulla base di questo principio potremo raggiungere la pace tra le diversità.